Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi voglio inaugurare una nuova collaborazione che mi riempie veramente un sacco d'orgoglio. Inizio della collaborazione con la Ravensburger, che io ringrazio di cuore per avermi dato questa possibilità, per avermi inviato in questi due giochi che sono Lo Squalo, il gioco ufficiale che ragazzi, lasciate sta, tanto già vedete che sono in fibrillazione, poi chi mi segue da un po' lo sa che sono fanatico degli squali. Per me è veramente Redemari, gioco che tratteremo oggi. E poi mi hanno mandato Las Vegas Royale della Lea, prossimo gioco che tratterò appunto nel prossimo video dedicato. Quindi grazie immensamente di cuore alla Ravensburger, come detto per mail è un grandissimo onore poter collaborare con voi, grazie veramente immensamente di avermi dato questa possibilità. Grazie, ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Lo Squalo. Il gioco dello Squalo, edizione italiana. Quando l'ho visto la prima volta su Facebook, mi si sono illuminati gli occhi perché ho detto no. Cioè, finalmente il gioco ufficiale dello Squalo, che era un po' che io lo cercavo in ambito board game, ma andando un po' anche su board game geek, però o c'erano giochi print and play, quindi amatoriali, o roba vecchia come il cucco. Quando l'ho visto mi è preso un colpo perché, come ripeto ancora una volta, chi mi segue lo sa, sono fanatico di Squali Bianchi di Megalodonti. A me piacciono da morire. Cioè, avessi la bacchetta magica, li farei riapparendermare a Megalodonti. So che farei un po' un casino a livello mondiale, però va bene. Mi sono sempre garbati da morire, a parte gli scherzi. E questo è un gioco da 2 a 4 giocatori, dai 12 anni in su, sì, perché c'è lo Squalo che devora la gente, come nel film, però non c'è violenza, ecco, mettiamola così in questo gioco. È vista abbastanza in chiave, è molto molto leggera. Ed è un gioco asimmetrico, un po' come Last Friday. Un gruppo di giocatori faranno Quint, Hooper e Brody, i tre protagonisti del primo film, che dovranno dare la caccia allo Squalo, e lo Squalo Bianco sarà un altro giocatore che invece dovrà non farsi prendere e mangiare tutti quanti i bagnanti dell'isola di Amity. Ambientazione del gioco è quella del primo film, ed è veramente veloce, immediato, ha pochissime regole e secondo me la cosa più bella, la valutazione ve la darò in fondo, la cosa più bella è azzeccata che prende paro paro il film. Non è un board game come tanti altri che si ispirano al film, al videogioco, quello che poi è, no? O anche un romanzo. No, 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 questo è proprio il film. Voi andate a giocare al film e quindi per i fanatici del film dello Squalo, come me, è uno dei giochi più belli che potessero capitare. Vi faccio vedere un po' di cosa tratta, ma prima, unboxing. La confezione, abbastanza grande, anche spessa, perché non c'è tantissimo contenuto, però quello che c'è dentro, soprattutto la mappa, prende un po' di spazio. E vedete la locandina del primo film e gioco della Ravensburger. Lo Squalo, bellissimo. Apriamo. Regolamento di gioco, che come vedete è diviso in atto 1 e atto 2 e possono essere giocati insieme o anche separatamente, se volete giocare un atto rispetto ad un altro. E poi qui tutte quante le regole, appunto, veloci. Un sunto. Ragazzi, è velocissimo. L'unica cosa, visto che forse un difetto nostro è montato leggermente strano, perché pagina 2, pagina 3, pagina 4 e poi si passa a pagina 7. Quindi l'hanno montato, sembrerebbe quasi che questo pezzo qui vada staccato dall'interno, forse andava veramente staccato. E è facilissimo, ragazzi. Veramente una cavolata. Un pezzo della mappa di gioco, dell'isola di Amity, che poi ovviamente dovete andare ad unire. Le schede dei personaggi. Quint, il capitano dell'orca. Brody, il capo della polizia. Cooper. La scheda dello Squalo. Tutti quanti i token, vedete i segnalini dello Squalo quando è in emersione. I bagnanti. Il figlio di Brody, con la barchettina che lui entrerà in campo solo quando ve lo dirà una regola speciale. I barili. E qua sotto, divisa a pezzi, la nave di Quint. L'imbarcazione di Quint, che è lo Squalo nella seconda fase e potrà sfondare. Tutti quanti i token, che sono lo Squalo in emersione. Le due barchette, vedete l'orca e la barchetta più veloce di Cooper. E poi i tremi polcolorati, che sono i personaggi. Clip, per segnare i punti, l'evoluzione dello Squalo e anche i punti ferita nella seconda fase. Bustine per conservare tutto. Schede, equipaggiamento, carte evento e oggettistica varia. I dadi del gioco, che servono per la seconda fase. E qua giù abbiamo un segnapunti per il giocatore che va a muovere lo Squalo nella prima fase, che dovrà segnare tutte quante le posizioni. Un po' come si è visto nel gioco di Narcos, quando appunto nella prima fase Pablo Escobar si deve nascondere. E qui accanto dovrà segnare il numero di persone che avrà mangiato. Queste sono tutte le cose che dovete usare nella fase 1. Come vedete, la mappa è divisa in punti cardinali e i numeri che vedete tutti intorno. Questa qui è la testa dello Squalo, del giocatore che muove lo Squalo, non deve essere sul campo. L'ho messa per farvela vedere, però non ci deve essere, perché lo Squalo gioca nascosto. Lo dovete soltanto mettere quando verrà rivelato. Questa è la barchetta di Quint. E vedete, lui è la pedina verde, con la scheda verde. Questa è la barchettina, che è tipo una specie di motoscafo, vi ricordate, di Hooper, che è quello blu. E Brody, che si muove a terra. Quindi chi fa il capo della polizia a Brody, si muoverà soltanto a terra. Chi farà invece loro due, si muoverà nell'acqua. Con la differenza che la barca di Quint si muove soltanto di una casella adiacente. Quindi questa potrebbe andare qui, potrebbe andare qui. Ovviamente non può passare sulla terraferma, ci mancherebbe. Non possono mai scendere dalle barche. E si muove di una casella per ogni movimento. Mentre invece lui si muove di due. Il giocatore che interpreta lo squalo ha tre azioni nel turno, però potrebbe usare anche le sue abilità, che sono usa e getta, le può usare una volta soltanto, che sono queste qui. Come detto ragazzi, non vi faccio un tutorial, vi do una veloce visione appunto delle regole. Lui potrebbe usare queste qui quando è il suo turno. Una a turno, ovviamente, ci si muove sempre prima lo squalo e poi tutti gli altri. E girandole, vedete che gli danno cose particolari, tipo che non può essere rivelato. Dei radar, si può muovere più velocemente o anche semplicemente può mangiare tutti i bagnanti in una zona. Quando la gioca, deve dire, l'ho giocata però coperta, perché gli altri giocatori non devono sapere quale ha utilizzato. In più, lo squalo che gioca coperto deve segnare tutte le sue mosse. Quindi, se lui all'inizio della partita decidisse di partire da nord, da qui, oppure da 1, per farvi un esempio, qua giù in start dovrebbe segnare dove si trova. Quindi, che ne so, N se parte a nord, 1 se parte nella zona 1. Anche lo squalo non si può muovere a terra. Quando si muoverà negli altri turni, vedete fino al decimo che poi la prima fase finisce, quando si muoverà negli altri turni, la zona dove finite il movimento la dovete riportare qua sopra. Non dovete mai, dovete sempre tenere traccia della vostra posizione senza mai mostrarla agli altri giocatori. I giocatori, invece, quando lui ha fatto le tre mosse, hanno quattro azioni a testa. Quindi, quattro quint, quattro hooper, quattro brodi e ognuno può fare delle cose particolari che sono scritte qua. Di solito, brodi è quello che va sulle spiagge, avverte i bagnanti di salvarsi, quindi i bagnanti vengono tolti. Ancora vi faccio vedere come vengono messi e in più può andare qua giù, ah, può usare il binocolo. Quando lui va in una spiaggia, può usare l'abilità di vedere col cannocchiale, che è un'azione, quindi potrebbe essere qui, muoversi da qui a qui e ha usato un movimento, un punto a movimento e come seconda azione delle quattro che ha, usa il binocolo. Se lo squalo si trova in questa zona qui, ovviamente deve essere sempre vicino alla spiaggia, non può essere in mare aperto, per quello ci vogliono barche e altre cose. Se si trova nella zona della spiaggia, perché ovviamente i bagnanti fanno il bagno in queste zone qua giù, per la maggior parte è difficile che si allontanino troppo in mare aperto. Se lo squalo dovesse essere in questa zona, quando lui ci mette il cannocchiale, lo squalo dovrà rivelarsi. Il giocatore che muove lo squalo dovrà dire, sì, sono lì, mi hai sgamato e quindi verrà messo in campo. Come altra regola ha quella di chiudere una spiaggia e la spiaggia viene chiusa. Quando verrà riaperta da una carta evento che vi faccio vedere a breve, invece di metterci i nuovi bagnanti, dovrete girarla da quest'altro lato, aperta a breve. Quando verrà riscelta un'altra volta da un evento per dei bagnanti, la toglierete e ci metterete bagnanti. Quindi chiudendo una spiaggia sta chiusa per due turni. Altra azione che può fare Brody è andare al negozio, prendere un barile, ne può portare uno solo alla volta e prendendo un barile, se lo porta dietro, lo può portare nei moli. Vedete, lo può portare qui o lo può portare di qua. Arriva in questa zona, scarica il barile nel molo e magari ne va a prendere un altro perché le barchette, nelle azioni successive, quando passeranno e arriveranno al molo, potranno caricare il barile sopra di sé. Sia chiaro, le barche possono trasportare quanti barili vogliono, ma soltanto Quint è quello che può sparare il barile con l'arpione. Hooper è quello che mette gli scandagli in mare, quindi butta giù lo scandaglio, questo qui, e l'eco scandaglio va in tutte le zone adiacenti. Se lo mette nella zona dove si trova lo squalo, lo squalo si rivela. Se invece lo squalo è in una zona adiacente, quindi qui c'è lo scandaglio, le zone adiacenti quali sono? Sono questa, perché vedete è adiacente, è questa, perché vedete tocca, questa e questa, e anche questa qua giù. Quindi questa zona qui, questa fascia, sono tutte le zone adiacenti. Se lo squalo si trova nella stessa zona dove l'ha messo, dove l'ha sganciato, si rivela. Se si trova in una zona adiacente, invece dovrà dire sì, sono nei dintorni, però non dovrà dire dove, quindi bene o male loro sapranno che lo squalo non è da questa parte, ma da quest'altra. Questo è il ruolo di Cooper, in più può salvare bagnanti sulla sua barca o può dare barili a Quint se si trova nella stessa posizione. Quint invece può lanciare i barili che è andato a prendere al molo che gli ha passato Brody o Cooper, li può tirare o nella zona dove si trova o in una zona adiacente, quindi anche lui potrebbe tirarlo qui, potrebbe tirarlo qui, potrebbe tirarlo qui, a distanza uno massimo. Quindi lo può tirare in una zona adiacente rispetto a dove si trova e se lo squalo viene beccato, quindi se lo squalo era in questa zona qui e lui lo tira qui, lo squalo si deve subito rivelare e gli viene attaccato il barile. Quando vengono attaccati i due barili allo squalo, la prima fase è finita. O se no, se lo squalo fosse qui segretamente e il barile fosse qui, quando lo squalo passerà in questa zona, si porterà dietro il barile, se l'aggancerà addosso. La prima fase, ragazzi, è tutta qua. Quando si gira una carta evento, che è questo mazzo qua giù, ve lo metto qua su in cima, evento emity, all'inizio del turno, prima di muovere squalo e loro, si gira una carta, si legge cosa c'è scritto, potrebbe essere una cosa attuale del turno oppure che dura per i turni a venire, e si vanno a mettere tanti bagnanti e quanti sono scritti qui. Quindi N, vedete c'è un N sola, quindi si prende un bagnante e si mette sull'N. Poi Sud se ne mette due. Come vedete, nella maggior parte stanno vicine alle spiagge, ma a volte si allontanano anche, se c'hanno delle barchette. Sud ci se ne mette due. Est, che sono questi qua, ci se ne mette due, perché Est è due. Quindi questa carta ha fatto entrare questi bagnanti. Se, mettiamo caso ad Est, la spiaggia fosse stata chiusa da Brody, diventava aperta a breve e non ci mettevate i bagnanti. Se anche dopo dovevano uscire altri bagnanti qui, poteva cambiare ancora, lo toglievate e apparivano i bagnanti. Sia chiaro ne può chiudere una alla volta, quindi se dopo decide di richiudere quest'altra qui, chiuderete questa e questa si riaprirà. Non può chiudere tutte le spiagge. Scopo dello squalo è quello di muoversi con le sue azioni che ha. Ricordatevi anche questa abilità qui è particolare, perché c'ha un'abilità che li fa mangiare tutta quanta la gente o lo fa muovere più velocemente e lui dovrà segretamente, questo non c'è mai, entrare dentro una zona e mangiare i bagnanti. Ad esempio, facciamo conto che lui fosse qui nel turno precedente. Nel turno suo attuale dice, ok, io mi sposto qui. Un'azione deve essere ovviamente collegata e non può passare sulla terra in diagonale. Mi sposto qui con la mia prima azione. Con le altre due, quindi ricordandoci che è partito da 6, quindi magari nel primo turno qui ci aveva scritto 6, ve lo metto qui accanto, qui 6, mi sposto di qua e finisco il turno qui, non mi muovo da nessun'altra parte. Quindi nel punto 2 dovrà scrivere E, tenendo traccia che così da 6 si è spostato ad E. E ci sono due bagnanti, può usare due azioni per mangiarli tutte e due. Quindi qua giù vedete Nord, Sud, Est e Ovest. Lui ne ha mangiati due ad Est, sulla E, quindi qui accanto ad Est ci dovrà scrivere 2, per ricordarsi che ha mangiato due bagnanti. A fine del suo turno vengono tolti i bagnanti, questo ovviamente non c'è soltanto per darvi un riferimento, e quindi i giocatori faranno, eh, ha mangiato due bagnanti qui, se si è mossa anche di 1 o 2 senza usare abilità potrebbe essere qui, potrebbe essere qui, potrebbe essere qui, e quindi si iniziano a muovere. Scopo dello squalo è quello di mangiare 8 bagnanti, sarebbero 9 però voi partite già dallo 0 all'inizio, quindi comunque mangiare 8 bagnanti per finire la prima fase, se gli vengano agganciati addosso due barili, in questa fase qui come vi ho detto, finisce la fase 1 e si passa subito alla fase 2. Nella seconda fase si girano le schede dei personaggi sulla fase 2, che ora vedete accanto ci hanno i punti ferita, infatti ci dovete andare a mettere le clip, vedete? Si parte da 0 e quando arrivate sulla X il personaggio è morto. Scopo dello squalo è quello di uccidere tutti e tre i personaggi, o di affondare l'orca, perché anche se affonda l'orca ha vinto la partita senza doverli uccidere, scopo dei giocatori è quello di uccidere lo squalo. Ora, i mazzi, nella prima fase del gioco il mazzo era solo questo qui, che era il mazzo di Emity, degli eventi di Emity. Questa volta non si usa. Adesso verranno in campo le abilità dello squalo, che è questo mazzo qui, che lo squalo ha tante abilità per quanto ha evoluto nella prima fase. Quindi se ha mangiato ad esempio 6 bagnanti, vedete che avrà 7 carte abilità squalo e l'equipaggiamento dei nostri eroi sarà sempre minore. Quindi nella prima fase se lo squalo si potenzia troppo e mangia tanti bagnanti, avrà molte più abilità rispetto all'equipaggiamento dei personaggi, dei tre personaggi. Poi abbiamo il mazzo Emersione, che ovviamente utilizzerà lo squalo, l'attrezzatura e l'equipaggiamento, che è quello che viene calcolato da qui. Quindi nel caso fossero 5 carte, ad esempio, se ne pescano 5 casualmente e i giocatori possono dividersele. Sono carte equipaggiamento generico, vedete che possono, tipo la pastura e cose del genere, che possono usare tutti. Però non se le possano passare durante il gioco, devono decidere subito, all'inizio della seconda fase, tipo la gabbia, anti-squalo, chi le prenderà e quante. Potete darle 5 tutte allo stesso, oppure una per uno, o cose del genere. In più, ciascun personaggio ha il suo mazzo di due carte. Queste sono quelle di Cooper, queste sono le due di Quint, che devono essere messe scoperte, cioè lo squalo deve poterle vedere, e queste sono quelle di Brody. Se vi ricordate, Brody ha anche la pistola. E vedete accanto c'è scritto il numero di dadi che vengono tirati. Se ci vedete un più e un simbolino, vuol dire che quello lì è un danno automatico. Ora, senza farvi vedere troppo come funziona questa fase qui, spiegarvela minuziosamente, lo squalo deve emergere, distruggere la barca, mentre i nostri personaggi ci si potranno spostare. Anche nella seconda fase abbiamo tot azioni, quindi per usare un'arma da corpo a corpo, tipo un macete, vedete c'è il simbolo del corpo a corpo, vi dovete trovare in una zona adiacente, per poter colpire lo squalo. Mentre invece con un'arma da fuoco, tipo quella del capo della polizia, Brody, anche se si trovasse qua giù potrebbe tirare praticamente ovunque, essendo un'arma a distanza. Lo squalo deve distruggere la barca. Per distruggere la barca, vedete, ci sono due valori, uno bianco e uno nero. Se lui riesce a fare tanti danni quanto il valore bianco, il pezzo viene girato dalla parte che inizia, scusateli qua, dalla parte che inizia ad imbarcare acqua, come vedete. Inizia a imbarcare acqua e a distruggersi. Se invece fa, dopo altri due danni neri, o subito la prima volta, invece di fare bianchi, ne fa quattro, quindi fa subito il valore nero, la parte viene totalmente staccata. Quindi lo scopo dello squalo è quello di affondarla. In più, oltre a fare queste cose, ha anche un'azione bonus. Se un giocatore, perché è caduto, perché si è rotta una parte, o perché anche si è buttato in acqua, perché ci si può anche spostare in acqua per attaccare lo squalo, se nella zona che è finita in acqua ci fossero finiti due personaggi e lui fosse stato qui, avrebbe potuto subito fare un attacco immediato per andare ad uccidere. Lui dovrà pescare tot carte, che sono le carte emersione. Girando le carte emersione, viene fuori quale zona sarà colpita. Quindi in questo caso qui, la zona colpita sarebbe questa qua giù. Quindi la prossima zona che verrà colpita dallo squalo sarà questa qua. I danni che verranno tirati, vedete qua giù, in più c'è un altro valore legato allo squalo. In più lo squalo ha il suo mazzo abilità a seconda di quanto ha voluto. Quindi se l'evoluzione è arrivata a livello 7, a livello 8, ha queste carte abilità che vedete qui, che può usare durante appunto la sua fase di turno. In questa fase qui finale, lui o affonda completamente la barca, o uccide tutti quanti i personaggi, portandoli a zero punti ferita sulla scheda, o loro riescono ad uccidere lui. Quindi loro per vincere devono ammazzare lo squalo, lo squalo per vincere o ammazza loro o affonda la barca. Ragazzi, bene o male, il gioco è tutto qui. Ultima cosa, quando andate a fare l'attacco sia dello squalo al pezzo che voi in corpo a corpo, tirate quanti dadi sono richiesti e vedete, ci sono i simbolini. Questo qui sarebbe un 3 danni. In conclusione, a livello di componenti, non ne ha tantissime, l'abbiamo visto, perché ha dei meeple in legno, ha le barchettine, ha i tre personaggi divisi per colore, ed ha un altro meeple, che è praticamente la testa dello squalo che sbuca dall'acqua. Poi vabbè, la mappa di Amity è bellina, la mappa col fatto che da una parte c'è l'isola di Amity, invece dall'altra parte c'è l'orca, la nave del capitano Quint che va montata per la cosa finale, mi piace che si divide in due parti. Due parti che dovete giocare insieme, che potete giocare insieme, o potete giocare anche separati. Se volete fare un'avventura più veloce, giocate solo la prima parte con l'isola di Amity, oppure giocate soltanto la parte finale con l'attacco e il vero e proprio PvP, lo squalo contro i sopravvissuti della barca di Quint. È bello, è molto tattico, qui bisogna veramente giocare di squadra, perché è molto tattico anche per lo squalo che non deve farsi beccare con i sonner e cose del genere, con le boi di galleggiamento, per barelli, però soprattutto il giocatore dello squalo è solo, quindi sì, deve organizzarsi la tattica, ma che faccia bene o che sbagli, deve rendere conto solo a se stesso. Gli altri invece si devono organizzare, perché l'avete visto, Brody non può entrare in acqua nella prima parte, quindi il capo della polizia, Brody, si deve muovere sull'isola, cercare di spottare lo squalo, salvare i bagnanti, prendere i barili dal negozio e portarli in acqua per Hooper e Quint, mentre invece Hooper è quello che ha la barca più veloce e Quint invece è quello che può sparare direttamente con l'alpione della sua barca i galleggianti da attaccare allo squalo. Quindi, se qui non c'è il gioco di squadra, lo squalo vi mangia tutte le persone, evolve e diventa potente, nella fase 2 trovate uno squalo che è talmente forte che anche se li sparate in bocca con un revolver non li fate niente. Ed è molto interessante, quindi i disegni sono fatti bene, è molto evocativo appunto per il primo film dello squalo e non li manca niente. Ora forse ci fosse stata un pochino più di componentistica all'interno, sarebbe stato meglio, ma non ce n'era bisogno. Anche qui non vi dico nulla perché non vi voglio dire niente, non vi voglio rovinare la sorpresa, ma c'è un nuovo tema di video che fra non molto, fra pochissimo siamo agli sgoccioli, ce l'ho quasi fatta con mia moglie, porteremo sul canale che sarà collegato al gioco dello squalo ma anche altre cose, quindi con calma vedrete tutto quanto. Se li devo dare un voto a un gioco del genere perché per me un gioco deve riprendere fedelmente quello che va a trattare. Ad esempio nel gioco di Grosso Guai a Chinatown riprende molto fedelmente il film, però c'ha delle cosine in più che un po' lo vanno a storpiare, ci sono troppi nemici da combattere, ci sono troppe fasi, c'è l'esplorazione della città, cosa che poi alla fin fine di Chinatown che nel film non c'era nemmeno, ovviamente l'hanno dovuto adattare. Questo non l'hanno dovuto adattare il board game al film, è proprio il film. Voi giocate il film, le stesse identiche cose che vedete nel film le andate a rigiocare nel gioco da tavolo e meglio di così non poteva venire. Quindi 10 su 10, meritatissimo, io ringrazio la Ravensburger per avermene offerto una copia per la recensione, ho detto tutto in italiano e tempestivamente, che è sto 48 ore consegnato a casa. Grazie di cuore alla Ravensburger, è un onore collaborare con voi. Vi ricordo, primo link in sovraimpressione e primo link in descrizione se lo volete ordinare da board game discount ai migliori prezzi sul mercato. Vi ricordo ragazzi che quando andate su board game discount e il gioco non lo trovate in lista, mandategli una mail al supporto, fateli presente che arrivate dal mio canale, dal cane di Coridan, non solo faranno il possibile per trovarvelo, ma anche al miglior prezzo. E se non lo volete pagare tutto insieme, lo potete pagare anche in tre errate senza finanziamento. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate e veramente promossa a pieni voti. Ciao ragazzi, alla prossima!